Nel video di oggi ragazzi mi fingerò un bambino di 8 anni pazzo Che vuole fare il provino per il team Questo bambino però ovviamente sarò io Quindi sarà un po' troppo forte per essere un normale bambino di 8 anni Secondo voi se ne accorgeranno? Ovviamente codice calpis e negozi oggetti E lasciate un bel like Se arriviamo a 8000 like sotto questo video Farò altri troll ai miei amici dei provini Eccolo qua ragazzi DarkMarco776 Vi raccomando vi sente Vai Marco Mamma mia Che azzerraggio perfetto calpis Adesso non esageriamo Comunque io vi ricordo che lui vi sente Quindi non fatemi fare brutta figura Che è il fratellino del mio migliore amico Ciao Marco Come ti chiami? Ovviamente Marco Dark Marco ha il nome e Dark ha il cognome E Braga non parla nel video di oggi E va bene un attimo voglio analizzare bene le sue giocate Calpis Voi dite tanto che è forte Eh ma dite tanto che è forte E forte però con calma No io non l'ho detto ancora nulla A me hanno detto che è forte Hanno detto Chi è che te l'ha detto? E' il mio migliore amico che mi ha detto Che il fratellino è forte Eh vabbè certo Lui si chiama Dark Mi raccomandato di così non esiste Calpis Dark Andrea lui si chiama Dark Andrea 775 Sì sì no ma nella famiglia sono un po' tutti così Uno c'è un po' dark Cioè come cognome è fatto dark Invece la madre si chiama White White sì A parte gli scherzi però dobbiamo giudicarlo veramente Perché se qua è scarso non può entrare nel team Cioè ma cosa si fa di quella pistolina? Io prenderei il cecchino Eh ma forse lui non è molto avvezzo Ecco vedi Pozzetta C'è preso dei scendini Attenzione Oh Questa hit Eh ma è stata bella eh Stata carina è stata carina È brava a guidare eh Però non aveva sentito l'affessario eh Brava Bravissimo Bravo bravo Allora place l'ha già battuto come livello Per simpatia sicuramente no eh Eh vabbè Vabbè quale è impossibile Allora ti dico una battuta che mi ha detto lui eh Ti dico una battuta che mi ha detto lui Vai sentiamo sentiamo paura All'occhio All'occhio Ti sei sicuro che te l'ha vedetta lui Me la detta tuttore Me la detta dark marco Questa mattina Inizia di cercarela su internet No 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 Mi ha detto mi ha detto E qual è il colmo per un anatra? Avere la pelle d'oca Oh 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 Ciao ragazzi io vado Non è più simpatica È più simpatica È più bello ragazzi Sì sì Ciao Attenzione Attenzione Ultima domanda del dark Ultima kill Una delle tante Che farà Dicendo calpi È tipo avanti un'altra Oh Regà ma si sta mangiando tutti A parte gli scherzi C'è Un attimo Sta gestendo tutto a pinnacoli Sì sì È tutti contro di lui Dark marco Per favore sparati stai splash Ho paura che muori Dark marco Ti prego Dark marco ringrazio Infatti se l'è splashata subito Qua sotto 5 o 6 Oh mio dio 18 o due volte Tipo È un po' smirato Però vediamo No Porca marca Che paura No vabbè Oddio Oddio Ok Mamma mia Ok ok Che rischio Oh bellissima La pulbo No raga È forte È bravo Stiamo spazzando Vediamo come se la gesti È craccato Pretenzione Tutte le armi scariche Oh guarda come riprende la cupola Dopo che Mamma mia Non riesce a editare Dark Che giocatore Che giocatore dark Eh vabbè Però ci stanno altre persone Che gli stanno Hai asvelato l'edit E questo non è fondamentale Mamma mia Io non l'avrei sbagliato Io non l'avrei sbagliato Sì sì Sicuro Sicuro Comunque vediamo un pochettino 26 Bravissimo Bravissimo Ma c'è un altro Dark resta concentrato Eh è quello di prima Mi sembra Che adesso è tipo Definito Ecco la Sarebbe Ok Adesso Pusci di qua Secondo me Le H albis E certo Non è che solo perché C'ha otto anni Non può sbagliare un colpo Sì Poi quando parla Oltre anni Tira solo Eccio Traga Sì 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 Ma c'è la mano grossa Quanto il tasso e la tastiera E Riesce Chi No Lui ti spiego Usam Tipo il mouse Della chicco Quelle cose lì Ah Poi Il problema che hai Che quando parla C'ha un po' la bavetta Però non prendetelo in giro Marco sei bellissimo Lo stesso Ci vogliamo Vero Sì sì No è molto bello Però ogni tanto Fati con Capito no Tipo Paperino Che schifo Eh Non esageriamo Cosa è lo scruciti Cosa ti fa Eh fa così Mentre parla Ma non è così Calpita un po' di familiarità Con questo Sì sì Non è vero Io non ho Che fortuna Trovare il corvo dorato Vediamo se riesce D'Ucciderlo Eh Eh La mitaglietta d'oro Ragazzi Ma che cacchio Perché C'è È lasciato Ma uccidilo Marco Ah no Marco è misericordioso Non vuole uccidere Non ci credo Ma no ma ben il punto Ma fa col tempo di dirlo eh No scherzavo Ma va a fare bene In famello Che infamone Si è preso pure La k A posto Vabbè Comunque rega 6 kill per lui In arena Devo essere E poi è andata Pinnacoli eh Eh sì È andata Pinnacoli Eh va beh Qua Qua flexa gli edi No Oddio ragazzi Stiamo scherzando Come va Ma non lo so farei Io questo Non lo so Fai Vabbè Non è che Non riesco io Da padre Guardate Oh mio Dio Dai non ci vuole Il fatto muove Veloce Il mare Tu hai paure Di essere Di cazzo Oh aspetta C'è uno là Sì sì Adesso lo fai Da dark marco Mi raccomando È concentrazione Concentration Marconi Ok 36 due volte 36 Questa nemica Vantaggio Oh mio Dio No ragazzi No Non si dice Questa parola Eh va beh È una bella giocata È stato bravino No Sta scappata Scappa così Che schifo Alla jump Però Marco Se È una Capita Però Quello lì Si fa 300.000 La chilometri Oh gli sta Legnando addosso Di nuovo È matto Oh mio Dio Tutto 98 Mamma mia Ragazzi Si sta Mangiando un altro Player Un altro Player del Tiro Un dio Il box È Di qualcosa Oh Con la mitraglietta Con la mitraglietta Una miramigliore Della mia Oh mio Dio Ragazzi Questo dark È veramente forte Ma come fa poi A otto anni Cioè io inizio Faccio te l'ho detto Prima È pure talento Non è qualcuno Di voi Che mi sta facendo Uno scherzetto Magari Calpis Sicuramente Quello che Proprio dobbiamo Mettere in discussione È che anche lui Build Guardalo No no Ascoltami Quello che dobbiamo Mettere in discussione Che anche lui Builda al muro Con la Q E qua L'unico Che builda Il muro Con la Q Sei te No Guarda Come non mi Ascoltano Dimmi 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 L'unico Che builda Il muro Con la Q Qua Sei te Ah quindi Non siete voi Ok Non state In realtà Anche io Il muro Con la Q Vedi che anche Me Cosa Il muro Con la Q Però non sono così Forte Io Lui Usando i miei Tasti Secondo me È perché Un mio Fan Quindi Giustamente Può essere Io tipo Li ho copiati Da Venti I miei Tasti Perché Un suo Fan E lui L'ho Copiativa Perché Ovviamente Si impara Dal migliore Dal più Forte Però Attenzione Perché Qua Non è Una Situazione Bella Il nemico Sembra Fortissimo E poi Sono 200 materiali Non è Sì Bene Però È un vero Pro player Lui È fortissimo Non lo so Se basta Anche perché Sta finendo Questo Ragazzi Qua era messo Veramente Malissimo E Qua era Pesso Veramente Male 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 Bravissimo Marco Un altro Un altro Di lui Io scapperei Hai una jump Ancora Ma Oddio No Ragazzi Ma cos'è Sta roba No Ragazzi È più forte Di Braga Voglio Marco Ma per forza Perché Scusami Allora Braga Era quello Comunque Abbastanza Forte Basta Però Non c'è Sopra Marco Abbiamo Tanti ruoli Placcio Quello Nabo Ma che Comunque C'ha Un po' Di simpatia Sono Simpatico Poi C'è Braga Che in teoria Dovrebbe essere Quello Forte Ma è Quello Un attimo Pi' Intelligente Io Che sono Tutto Perché Sono No Quindi Lui Prende Il posto Di Braga Che Dovrebbe Prende Il posto Di Pace Dai È Quello Più Scarso Ma Io Trattengo Io Trattengo Che Io Trattengo C'è Più Di Che Senza Placcio Chi Che Dice Cosa A Caso Che Che Viene Preso In Giro Io Da Calvi Se Quello Più Venerato No Ragazzi Che Cacchio Di Build Un po' Si Inceppa E Quello Che Fare Queste Così Incepi Con Vabbè Qualsiasi Play Sinceramente Inizio Ad avere Un po' Di Dubbi Ragazzi E Come Possibile Che Uno Che Gioca Cioè Otto Anni Non Gioca Da Tantissima Se Volete Dopo Vi Faccio Parlare Con Dark Marco Cioè Non È Un Problem Sì Va Bene Va Bene Anche Perché Cioè Con Braga Non Serve Perché Viene Kiccato Dal Team Dai Però Con Con Voi Che Comunque Facciamo Io Da Sì Doviamo Venti Amici Esatto Una Riunione Insomma È Una Call Un Altro Nemico Per Mitico Dark Ragazzi Vediamo Un Pochettino Eh Qua Sincerca 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 Non Spiegare Tutti Stima Spero Che Nei Poi Stanno Vediamo Come Prende Il Muro Questo Qua La Place Un Altro Nemico Vediamo Se Vorrà Ucciderlo Oppure Vuole Scappare No Lo Vuole Cicere Sempre Il Fight Marco È Una Furia Omicida Ragazzi Vabbè Quella Ragazzi Veramente Forte Eppure Vi al bacio E io Non Lo So Io Non Dai Dai Facci vedere Sensibilità Marco Fai vedere Le sensibilità Ok Le sta Facendo Vedere C'è gente Però È Calda Io Vi ho visto Una somiglianza Però Perché Voi Sapete A memoria Le mie Sensibilità Sì Me l'hai detto Un sacco Di volte Certo Perché Sì Parliamo Quando Noi Parliamo Degli Argomenti Ci Calpi Attenzione Fortissimo Bravissimo Calpi Non sono io Non sono io Calpi Su un'altra cosa Che ho notato E basta Detective Conad No Perché Assolutamente 425 Punta Ma Perché È Un mostro E c'è 400 Perché Usa L'account Del fratello Da Andrea E Qui Andresca Perché Si Chiamata Marco Perché Lui È Il suo Secondo Account Io Ho Detto Adesso Che Devi Fare Il Ho Trovato La Trovata La Trovata Calpi Calpi La Trovata Ho Trovato Ha Detto L'ho Trovate Sto Giocando Con Lui Spiritualmente Dai Dai Spiritualmente Non puoi Farsi Perdere Sto Tempo No Raga Non sono io Vi faccio Parlare Con Marco Vi faccio Parlare Con Adesso Attiva Pure La Cam Su Discord Perché A me Non Piacciano Queste Cose Non Mi Piacciano Allora Un piccolo Problema Che Lui Ha Dele Infos Con Ficcate Nelle Labbra Quindi Non Prendere In Giro Adesso Stai Dicendo Facendo 321 Ciao Ragazzi Ciao Che Braga Il Chimo Sono Io Sono Io Però Però È Stato Veramente Forse Ma Ho Già In Contro Quelli Che C'hanno Zero Punta Che Vuol Dire Invidia Invidia Vi ho Trovati Per Bene Comunque Mi raccomando Codice Carpis Nel Legozi Oggetti Ditelo Pure A voi Codice Carpis Ragazzi Per essere Dei Truffatori Come Lui Per Inganar Bene Gli Amici Per Inganare Bene Gli Amici E Far I Preci Armi Prankster Comunque Grazie Per la Visione Ci vediamo In un Prossimo Video Ciao Ciao